Da Levante agli Zen Circus, da Francesca a Michelin, a Piero Pelù e anche Umberto Tozzi, Max Pezzali, Marlene Kunz, Car Brave, Neck, Noemi, Ernia, Joe Evan. Sono questi alcuni degli artisti in arrivo all'Anfiteatro delle Cascine, Main Stage, dello spazio estivo fiorentino Ultravox. Grandi eventi che ripartono mercoledì 25 agosto con Fuck Art, Let's Dance. Venerdì 27 sarà il momento degli Alma Megretta con un live dedicato ai brani più abati a cominciare dall'album Sanacore. Sabato 28 a pro del post-pandemic tour de Marlene Kunz, lunedì 30 a Joe Evan, sabato 4 settembre Car Brave, domenica 5 il ritorno a Firenze di Neck, martedì 7 Noemi, il 9 Erne e poi Levante. Chiudono il mese Max Pezzali, il 13 settembre, il 15 Francesca Michelin, il giorno dopo il gigante Piero Pelù e il 17. Invece chiude la stagione di Ultravox Umberto Tozzi.